La pandemia di Covid-19 non ha fermato il tradizionale meeting dei diritti umani, la cui ventiquattresima edizione si è svolta in un Mandela Forum di Firenze vuoto, ma con 12.000 studenti di 110 scuole medie e superiori collegati da remoto, per ascoltare testimonianze e confrontarsi su diritti e legalità nello spirito del nuovo rinascimento che, ha detto il presidente della regione toscana Eugenio Gianni nel suo intervento video, solo i giovani possono creare in linea con il DNA toscano. Io rispetto il titolo dell'evento che rientra nel progetto Giovani Sì della regione toscana per l'autonomia dei giovani. Questa giornata ci ricorda anche con orgoglio come la Toscana da sempre sia terra di diritti e voglia continuare con orgoglio questa tradizione. Combattere oggi per i diritti umani significa schierarsi contro ogni forma di violenza, di sopruso e discriminazione, ogni forma di ingiustizia e disuguaglianza. Questa pandemia rischia di accrescere le disuguaglianze sociali, economiche e territoriali e noi invece dobbiamo combattere affinché i divari diminuiscano e non certo accrescano. Noi viviamo oggi una generazione di pace, di benessere e diamo troppo per scontato che tutto questo sia per sempre e non è così. È per sempre se nelle nuove generazioni e di noi rimane saldo il principio di riconoscimento del valore della persona, della legalità, dei diritti che a ciascuno e dei doveri che a ciascuno competono nel momento in cui vivono in una comunità strutturata. Un'edizione inedita del meeting dei diritti umani che ha dimostrato l'importanza delle nuove tecnologie anche nella trasmissione dei valori alla base della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata proprio il 10 dicembre 1948. Essere giovani nel mondo, giovani nella Toscana non è soltanto una cosa bella ma è anche una responsabilità perché molto di quello che ci sarà domani in questa regione dipende dall'impegno che noi oggi mettiamo, mettiamo nel concretizzare questi valori. Quindi la giornata dei diritti umani vuol dire ai toscani e ai giovani toscani che non sono solo il futuro di questa terra ma ne sono il più bel presente che potessimo chiedere. Sul palco, oltre alle tante storie come quella di Patrick Zaki, difensore dei diritti umani in carcere in Egitto, anche la musica e le parole per raggiungere e coinvolgere le migliaia di studenti collegati online.